Alcuni anni fa, nell'affrontare uno studio sul nascere della pittura naturalista in Spagna, ebbi modo di constatare che alla fine del XVI secolo l'interesse per la natura morta come autonoma espressione artistica si era sviluppato prima di tutto in tre aree europee sotto il governo spagnolo, le Fiandre, la Lombardia e la Spagna stessa. Questa convinzione, frutto anche di alcune conversazioni avute con altri colleghi, tra i quali Gabriele Finaldi e Peter Cherry, se in parte poteva essere spiegata come una logica conseguenza del frequente e normale scambio di informazioni e relazioni commerciali che esisteva tra questi Stati, metteva in evidenza però anche il sorgere di un collezionismo intellettuale, aristocratico e borghese, che con caratteri diversi e indipendenti, a seconda delle regioni, si compiaceva della naturalezza di queste immagini, non solo per il significato morale o scientifico, ma anche per il loro aspetto decorativo, e nasceva così un'ampia antipologia pittorica che poteva avere aspetti curiosi e sofisticati di pre-surrealismo, come i quadri che il pittore Lombardo Arcimboldo dipinge alla corte degli Asburgo austrieci, Massimiliano II e Rodolfo II. Nelle Fiandre, probabilmente per regioni di mercato, almeno agli inizi, gli artisti sembrano quasi mimetizzare questo nuovo genere di pittura, con interpretazioni ancora legate alla tradizionale tematica religiosa. Così, Peter Arsene e il suo allievo Joachim Bukaler pongono in evidenza nei loro dipinti scene di mercato o di cucina, con varietà di oggetti e di dettagli, mentre sullo sfondo fanno intravedere spesso episodi tratti dai Vangeli, quasi a voler riaffermare che il soggetto è comunque sacro e che viene trattato solo da una differente angolazione. In Nord Italia, invece, pur non mancando esempi pittorici simili a quelli fiamminghi, soprattutto ad opera dei fratelli Campi, del bolognese Bartolomeo Passarotti e dei Carracci, pare prendere più piede un altro tipo di raffigurazione, di più contenute misure, ma maggiormente illusoria e concentrata spesso su un singolo recipiente contenente delle frutta. Quadri di artisti che si scimentano in ambe e due le tipologie arrivano molto presto anche in Spagna e le loro opere vengono talvolta conosciute come Cosine de Flandes o Bodegones de Italia. Da documenti ed inventari sappiamo oggi che il loro successo è immediato. Prova ne è che Pantoja de la Cruz nel 1592 imita tre Bodegones de Italia. Per Agostin Alvarez de Toledo, un membro del Consiglio delle Indie e, poco più tardi, nel 1593, Filippo II regala al monastero dell'Escoreal due Bodegones Fiamminghi. Proprio allo stesso tempo, Caravaggio arriva a Roma e, consapevole della sua educazione lombardo-veneta, dà inizio a un nuovo linguaggio figurativo. Già nei suoi primi quadri egli inserisce dei brani di Natura Morta di assoluto realismo ma è poco più tardi, quando viene accolto dal Cardinal Francesco Maria del Monte nella sua residenza ufficiale di Palazzo Madama che egli sviluppa questo specifico interesse con opere di maggiore impegno. Qui vediamo il musico dell'Aude della collezione privata di New York e poi anche il bacco degli uffizi. Grazie all'ospitalità di Del Monte Caravaggio allarga il campo delle sue conoscenze sia intellettuali che umane. I rapporti che il Cardinale mantiene così costantemente con vasti ambienti culturali della scienza, della musica e del neoplatonismo come Galileo il Galilei o il suo stesso fratello Guido Baldo autore di un famoso trattato sull'ottica permettono all'artista di sperimentare nuove soluzioni visive. Inoltre egli entra in contatto con i maggiori esponenti del collezionismo locale i giustiniani, i mattei, i crescenzi tutti raffinati raccoglitori di quadri di antichità e come Del Monte sostenitori di ogni valido portatore di novità artistiche. In questo mondo così recettivo di nuove idee Caravaggio crea anche delle nature morte a sé stanti e l'importanza che vi pone viene riportata più tardi dal Marchese Vincenzo Giustiniani che ricorderà una frase del pittore che affermava che ci si doveva impegnare a fare un buon quadro di fiori come uno di figure. Di certo è che presso il Del Monte egli dipinge due tele del genere. La prima sfortunatamente oggi smarrita ma ben documentata sappiamo che era una caraffa di fiori probabilmente simile a questo dettaglio tratto da un falso contemporaneo. Con la seconda invece egli concepisce uno dei suoi capolavori assoluti la canestra di frutta della Pinacoteca Ambrosiana. Questo dipinto che apparteneva al Cardinal Federico Borromei amico dei Del Monte e suo predecessore come protettore dell'Accademia di San Luca l'Accademia Romana degli Artisti è un quadro che per la sua modernità non ha precedenti. non solo perché il punto di vista è frontale e non dall'alto come di consueto ma anche per la sua viva naturalezza che al tempo di Caravaggio non ha altri possibili confronti. È una vera e propria illusione della realtà una perfetta imitazione e non a caso scopriamo dall'inventario del Cardinal Borromeo che la tela poi non possedeva una sua cornice e questo induce a pensare che forse la pittura fosse collegata in uno speciale arredo in modo da poter confondere la percezione visiva di ogni ignario visitatore. Ma se queste erano le novità del genere in Italia qual era invece la situazione nella penisola iberica? Negli ultimi anni del Cinquecento malgrado la capitale fosse stata spostata a Madrid e nella città di Toledo che si diffonde il gusto per questi temi decorativi a produrre inizialmente il misterioso Blas de Prado ma è soprattutto il suo allievo Juan Sanchez Cotan l'interprete più significativo di queste pitture. Avendo scelto una vita contemplativa una vocazione che appare comune a diversi altri artisti spagnoli del tempo è probabile che ciò abbia favorito i suoi studi sulle cose inanimate fatto sta che nelle sue tele gli oggetti appaiano meticolosamente studiati uccelli, frutta e ortaggi sono riprodotti realisticamente e irradiati da un'intensa luce sono inseriti, distanziati tra di loro un elemento alla volta su presunti piani di finestre queste composizioni pur essendo ispirati da esempi lombardi appaiono totalmente originali e in qualche caso la loro datazione risale a prima della fine del Cinquecento ed è pertanto impossibile che possano aver subito delle suggestioni caravaggesche sono invece il risultato di una nuova attenzione artistica che cresce in Spagna per questo genere di pittura e che presto avrà altri protagonisti come viene dimostrato anche dal giudizio di Francisco Paceco che, osservando una tela di Alonso Vasquez dipinta prima del 1603 dichiarava che inissa le figure e gli oggetti erano stati eseguiti con la medesima cura confermando così inconsapevolmente un concetto già espresso da Caravaggio diversi anni prima ma adesso guardiamo la pittura più tradizionale cioè quella dei quadri di storia cioè i quadri con figure dove la situazione è ben diversa qui il passaggio a un'arte più attenta alla realtà visiva avviene più lentamente e benché i primi segni di sperimentazione naturalista si notino già in alcune opere di El Greco di Luca Gambiaso e ancora più in quelle dei Bassano in generale è il gusto del tardo manierismo introdotto a Federico Zuccari e quello timidamente riformato di alcuni suoi successori che continua ad avere maggior credito in questo scenario le prime notizie delle innovazioni che Caravaggio andava diffondendo arrivano in Spagna mediante le collezioni che altri prelati ambasciatori e governatori si erano creati in Italia anche alcuni pittori rientrati in patria potevano avere modo di espandere il nuovo linguaggio ma soprattutto a Madrid con grande difficoltà a causa di una committenza che per quanto tendenzialmente esterofila appare ancora legata alla tradizione manierista di matrice romano-toscana in passato si era ritenuto che tra gli artisti Orazio Borgiani doveva avere avuto un peso notevole nella propagazione del nuovo stile una lettura più corretta dei suoi documenti ha dimostrato però che il pittore giunto in Spagna nel 1597 vi era rimasto costantemente almeno fino al 1605 per poi non tornarvi più egli quindi aderisce ai modi caravaggeschi solo al suo rientro a Roma mantenendo comunque anche nella città papale stretti rapporti con importanti personaggi spagnoli è infatti ben nota la sua amicizia con l'ambasciatore Francisco Ruiz de Castro fratello del vicerei di Napoli Pedro Fernandez de Castro Conte di Lemos e con il segretario di questi Juan de Lescano per ambedue egli dipinse numerosi quadri tra cui le tele di un retablo per il convento di Portasceli a Valladolid donato nel 1611 dal Conte de Castro al potente ministro di Filippo III Rodrigo Calderon protettore dello stesso convento anche il Davide Golia dell'Accademia di San Fernando è un dipinto eseguito probabilmente qualche tempo prima potrebbe essere appartenuto al Conte de Castro e da questi spedito o portato al suo rientro a Madrid nel 1622 a questo punto però bisogna chiederci quali furono le opere di Caravaggio che arrivarono in Spagna nei primi due decenni del secolo la prima è certamente il martirio di Sant'Andrea la tela che è databile alla prima permanenza partenopea del pittore Lombardo era di proprietà del Conte di Benavente che per sette anni fu vicere di Napoli proprio al tempo dei due soggiorni del Merisi nel luglio del 1610 appena pochi giorni prima della morte del pittore il Conte dopo aver terminato il suo governo in quella città rientrava a Madrid trasferendo la sua quadreria italiana nel suo palazzo di Valladolid oggi sappiamo che il dipinto era valutato come il più importante di quella collezione e che ne furono eseguite varie copie a quanto pare poi il Conte possedeva altri due quadri assegnati al Caravaggio non ancora rintracciati una lavanda di piede degli Apostoli e un San Gennaro che forse era avvisabile in questa coppia del Fiammingo Finzon esistente in una collezione americana a queste tele si deve poi aggiungere anche il David del Museo del Prado che si ritiene anche esso sia giunto precocemente in Spagna e anche per questo quadro esistono diverse copie locali che all'epoca anche nel caso di altri prototipi caravaggeschi dovevano essere molto più numerose delle nostre attuali conoscenze sappiamo comunque che alcune di queste trovarono la via delle nuove Indie come la cattura di Cristo del Museo d'Arte di Sucre in Bolivia una tela certamente partita da Siviglia allora porto principale di ogni spedizione diretta alle Americhe esistono poi vari esempi della crofici di Sivione di San Pietro della Cappella Cerasi una discreta versione giunta molto presto a Valenza si trova tuttora nel collegio del Corpus Christi di quella città e a quanto pare questa potrebbe essere servita da modello per una copia compiuta da Francisco Ribalta nello stesso soggetto esisteva anche un esempio nella casa dei Pilatos a Siviglia di proprietà del Duga d'Alcalà dove era esposta pure una replica della Madonna dei Pellegrini ma questi quadri pari siano giunti in Andalusia solo nel terzo decennio pertanto il naturalismo e il chiaroscuro caravaggesco vengono divulgati almeno inizialmente in parte dalle sue opere o dalle coppie di esse ma successivamente i veri propagatori saranno i suoi seguaci sia quelli che ebbero l'opportunità di lavorare nel Reame che quelli che vi inviarono i propri lavori tra questi le fonti ricordano che oltre a Borgianni anche antiveduto della grammatica spedì molti quadri nella penisola iberica e diversi ne arrivarono pure per mano di Carlo Sarasceni di questo pittore molti documentano attestano che ebbe costanti rapporti con esponenti di vari ordini religiosi spagnoli all'inizio del secondo decennio ricevete poi dall'arcibisco Vittoledo Bernardo Sandoval Rojos la commissione per tre grandi tele che venne risposte nel 1613 nella cappella del rosario della cattedrale e di questo esempio lo potrete vedere anche nella mostra per ottenere un incarico così prestigioso è evidente che Sarasceni doveva essere tenuto in grande considerazione dell'alto prelato ciò viene dimostrato anche dal fatto che nella raccolta privata dell'arcibisco vi erano altre cinque opere dell'artista per Sarasceni la conversione alla maniera del Caravaggio avviene gradualmente alla metà del primo decennio del secolo in questo periodo a Roma egli subisce anche l'influsso di altri pittori come Elzheimer e Gentileschi a sua volta Sarasceni è influente su altri artisti più giovani uno di questi è il cosiddetto pensionante del Sarasceni un pittore geniale la cui dipendenza dal veneziano è palese perfino nei modelli malgrado le sue doti la circolazione dei suoi quadri è limitata ad un mercato minore fatto di piccoli collezionisti senza arrivare mai ad una commissione pubblica e questo forse a causa di una morte sopravvenuta precocemente comunque sia il suo nome e le sue origini sono ancora avvolte da un fitto mistero e il suggerimento che gli potesse essere francese non trova alcun riscontro stilistico anzi data la cura che gli impiega nei dettagli inanimati dei suoi quadri si dovrebbe invece pensare ad un'idequazione spagnola a tale riguardo bisogna dire che degli artisti che operano a Roma e poco prima Rossella Vaudret ce ne ha dato un ampio panorama tra questi pittori spagnoli che operano a Roma nel primo quarto del secolo XVII quelli meno ricordati dalle fonti documentarie tranne alcune importanti eccezioni appaiono essere proprio gli iberici questa constatazione ci porta quindi al caso di Juan Battista Maino il primo vero iniziatore della cultura caravaggesca in Spagna malgrado nullo si sappia del suo apprendistato artistico non sono dubbi che la sua vocazione naturalista sia sbocciata e sviluppata trascorrendo alcuni anni nella città papale data la sua origine parzialmente italiana suo padre era milanese alcune hanno voluto vedere nella sua formazione delle ascendenze bresciane o cremonesi in realtà i suoi primi lavori a noi noti mostrano soprattutto familiarità con le opere che alcuni artisti eseguivano a Roma tra il 1604 e il 1607 e il 1608 casomai sarebbe utile stabilire con certezza quali botteghe abbia avuto modo di frequentare e quanto a lunga è durata la sua permanenza in quella città un fatto è certo già col retablo della Trinidad due tele dipinte per il convento del Nuestra Signora della Concession nel suo paese natale di Pastrana egli mostra di essere un pittore perfettamente competente che pare aspirarsi nelle forme e nei toni chiari ad alcune telegiovanili degli Saceni e nel ricercato preziosismo di alcune vesti del Gentileschi osservando altri dettagli possiamo inoltre notare come lì sia al corrente delle ultime novità romane in questa che è l'annunciazione come vedete ho voluto evidenziare il dettaglio in alto del paesaggio dove appare questa torre che ricorda la torre delle milizie a Roma esiste un quadro di Saraceni che si conosce in due versioni una al Museo Nazionale della Bavaria dove anche lui nella presentazione al Tempio della Vergine rappresenta la stessa torre delle milizie osservando altri dettagli possiamo inoltre notare che egli sia al corrente delle ultime novità romane anche nel campo della natura morta sebbene il retablo non abbia una datazione accertata pare logico presumere che sia stato eseguito dal pittore alla fine della prima decata del secolo o all'inizio successiva ecco qui il dettaglio che vediamo è a sinistra questo vaso con fiori in questo caso i gigli che sono dedicatori della Vergine il sul tavolo che è un un vaso tipicamente caravaggesco e qui a destra invece un vaso molto simile tratto dal cosiddetto maestro di Hartford che al momento attuale molti di noi sono convinti che si nasconda anche questo sobbrichè questo nomignolo il vero nome dei Prospero Orsi l'amico intimo di Caravaggio in seguito Maino si trasferisce a Toledo ottenendo l'incarico di dipingere una serie di pitture murali per la chiesa del convento di San Pedro Martir su questi dipinti sono stati notati diversi richiami alla pittura di Guidoreni ma è più evidente soprattutto negli angeli ci sembra a nostro giudizio Gliechi della circoncisione di Orazio Gentileschi dipinta intorno al 1606 per la chiesa del Gesù ad Ancona e questo come vedete è un dettaglio che aveva messo in evidenza poco fa anche Rossella Vaudré proprio l'angelo che suona l'organo però si rivolge con lo sguardo verso lo spettatore in un paio di nicchie del presbiterio della stessa chiesa l'artista ebbe modo di dipingere anche le quattro virtù cardinali e per una di queste si serve in modo lampante di una composizione del Caravaggio ovviamente a lui nota la conversione della Maddalena qui infatti il modello della Santa viene in parte riutilizzato per l'immagine femminile della prudenza e per quanto sia in parte scelato dagli attributi connessi col tema allegorico identico appare il gesto della donna con il braccio appoggiato allo specchio convesso mentre il suo abito ed il mantello ripetono in alcuni particolari il prototipo caravaggesco qualora ce ne fosse bisogno questa parte dello scritto è stata fatta prima che io potessi leggere il catalogo o vedere la mostra quindi mi rivolgo ancora senza essere al corrente dei dati e degli accettamenti che sono stati introdotti nel catalogo e dei documenti portati da Rossella Valdri qualora ce ne fosse bisogno questa può essere considerata la prova definitiva del soggiorno romano del pittore durante il quale secondo Juan Martinez l'artista avrebbe conosciuto Annibale Carracci e Guido Reni anche questo riferimento non è privo di utili indicazioni fra i committenti di Carracci vi è Juan Enrique Serrera noto banchiere spagnolo stabilitosi a Roma e in società col genovese Ottavio Costa quest'ultimo è poi amante delle opere del Caravaggio e del giovane Guidoreni dal bolognese si fa dipingere questo martirio di Santa Caterina che è una tira dei primi anni del 600 quando il bolognese seguiva a modo suo il Caravaggio Costa oltre a possedere i due originali del Merisi aveva anche diverse copie dei suoi quadri tra queste vi era anche una conversione della Maddalena che per testamento nel 1606 egli lascia all'amico e socio in affari Enrique Serrera poi Costa in realtà non morirà ma morirà 15 anni più tardi però in quel momento quando aveva stipulato questo testamento aveva deciso di lasciare questa sua versione della conversione di Maddalena all'amico e socio d'affari Enrique Serrera possiamo quindi presumere che in questa circostanza è possibile che il giovane Maino abbia potuto ammirare la composizione caravaggesca ma tornando ai suoi lavori nel febbraio del 12 egli firma il contratto per le tele del retablo delle quattro pasquas un'opera monumentale in cui offre il meglio di sé anche in questo caso una delle fonti di ispirazione pare essere il gentileschi in modo simile al pittore toscano Maino cerca infatti di coniugare la cruda verità popolare alle esigenze estetiche della narrativa religiosa dedicando grande attenzione alla descrizione dei tessuti degli oggetti e dei dettagli in genere con una tavolozza di tinte calde e chiare che è prova di una diretta conoscenza dei tentativi intrapresi da alcuni artisti per l'appunto saraceni o gentileschi di aprire anche cromaticamente nuove strade al naturalismo caravaggesco nella grande tela dell'adorazione dei pastori è interessante poi osservare le teste del bue e dell'asino emergere da dietro un muretto come è stato notato da Mina Gregori ciò fa notare fa tornare alla mente la simile invenzione messa in pratica da Orazio nel suo riposo durante la fuga in Egitto di Birmingham un quadro certamente dipinto molto più tardi ma che potrebbe avere un precedente in una pittura finora a noi sconosciuta ci pare giusto accennare ancora ad altri due aspetti che accomunano Juan Battista Maino al Saraceni e al Gentileschi il primo è il suo interesse a creare opere più minute come dipingere ad olio sul lamine di rame che esegue come i due pittori italiani con grande raffinatezza il secondo è la sua abitudine a ripetere talvolta parti o intere composizioni da lui già realizzate come il caso del San Domenico di pardon questo è una questo per mostrare ancora come si avvicinano i due pittori Gentileschi e Maino Gentileschi a destra è ancora la circoncisione e il Maino a sinistra invece è l'adorazione dei pastori qui del Museo del Prado come è il caso del San Domenico di Soriano un tema evidentemente a lui molto caro è più volte proposto qui in due delle versioni una dell'ermitage di San Pietroburgo e l'altra invece che è stata attribuita a Maino da Perez Sanchez che esiste nella Galleria Nazionale di Dublino che io concordo che possa essere Maino ma un Maino del tempo del recupero di Bahia dell'ultimo periodo della sua carriera a questo punto non è il compito di questo relatore soffermarsi più a lungo sul curso spittorico di questo grande artista resta comunque il rammarico che a tutt'oggi non sia stata ancora identificata alcuna tela di quelle che certamente egli ebbe modo di eseguire nei suoi anni romani un altro pittore il cui soggiorno a Roma e non di meno avvolto nell'oblio è Pedro Nunez del Valle rientrato a Madrid alla fine del secondo decennio nel 1623 egli si dichiarava accademico romano intendendo naturalmente l'Accademia di San Luca malgrado questa sua affermazione il suo nome non appare in nessuna delle liste di questa istituzione e sebbene il suo stile almeno inizialmente sia decisamente naturalizzato alla maniera di Cecco del Caravaggio i suoi trascorsi professionali sono ancora tutti da definire questa sua somiglianza con Francesco Boneri alias Cecco del Caravaggio ha creato inoltre qualche confusione ed ancora alcuni dipinti vengono spostati di volta in volta all'uno o l'altro pittore ora al suo periodo romano vorremmo suggerire questo San Pietro Nolasco nella chiesa dei Mercedari proveniente da Sant'Adriano al Foro i padri mercedari spagnoli per l'appunto era una chiesa in cui avevano operato anche il Borgianni e il Saraceni due pittori che come abbiamo detto avevano stretti rapporti con i religiosi spagnoli sfortunatamente non essendoci documenti che ne attestino la paternità il nome dell'autore di questo quadro è mutato diverse volte per quanto ci riguarda a farci pensare a Nugnes del Valle ora non sono solo i dettagli accurati tipici in altri quadri del pittore ma anche la propensione costante che questo pittore ha nel rappresentare le sue storie con uno sfondo architettonico centralizzato un esempio di ciò è presente anche nella Gele Sisara della National Gallery di Dublino il suo dipinto più caravaggesco e forse anche il più riuscito che probabilmente era stato eseguito poco tempo dopo il suo rientro in patria tanto che egli decide di far indossare a Sisara che è qui disteso a terra dopo che è stato ucciso da Gele la corazza di manifattura milanese appartenuta a Carlo V che è ancora oggi visibile nella real armeria il percorso naturalista di Nugnes del Valle si eserisce però molto presto probabilmente a causa del gusto conservatore vigente nella capitale e il pittore per adeguarsi gradualmente tornerà a composizioni più convenzionali malgrado a Madrid ci fosse questa restia accoglienza una pittura più realista opere di pittori caravaggeschi italiani continuano a raggiungere in Spagna soprattutto nel secondo decennio vari esempi del genere dovevano trovarsi anche nella raccolta di una collezione purtroppo andata poi dispersa nel 1622 a seguito dell'assassinio dello stesso conte anche questa aristocratica aveva cercato di acquistare delle opere di Caravaggio durante un suo viaggio a Siena nel 1615 in realtà però queste teli da lui comprate erano di mano di Bartolomeo Cavarozzi e per quanto non vi siano prove abbiamo il sospetto che la truffa sia stata organizzata da Giulio Mancini il noto medico biografo e commerciante di falsi e originali naturalmente di questo imbroglio ai danni del conte di Villamediane il Cavarozzi non doveva averne conoscenza il pittore verederbese è infatti ricordato dagli storici come un uomo mite e riservato ed è probabilmente a causa di questa sua indole che per molto tempo gran parte della sua attività è rimasta ignorata o peggio mal interpretata sempre dalle fonti sappiamo che verso la fine del 1616 egli accompagnò il marchese Giovan Battista Crescenzi in Spagna e vi rimase forse per lo più a Madrid almeno fino all'inizio del 19 in precedenza dopo una conversione al caravaggismo avvenuta già prima del 1610 egli aveva offerto numerose prove del suo talento come pittore naturalista a Roma per i Mottei aveva dipinto diversi quadri tra i quali io presumo questo ritratto di Giovan Battista Mattei ma soprattutto aveva interpretato a suo modo la cena in Emmaus di Caravaggio mostrando doti non comuni non solo nelle figure ma anche nei dettagli dei cibi disposti sul tavolo ed è per questo che Giulio Mancini lo aveva poi descritto essendo universale di tutte le cose e con tutti i modi di operare nel genere della natura morta Cavarozzi doveva essere esercitato fin dall'inizio del secondo decennio del secolo nella cosiddetta Accademia di Palazzo Crescenzi al Panteo in quel laboratorio di sperimentazioni egli aveva eseguito delle composizioni che per molti anni sono state assegnate ad un fantomatico maestro della natura morta a Quavella oggi che fortunatamente gli sono state restituite queste ci permettono di comprendere più a fondo la raffinata personalità artistica di questo pittore con qualità così versatili è comprensibile perché il Marchese Crescenzi avesse voluto condurlo con sé in Spagna il Marchese poi essenzialmente era un impresario che grazie ai suoi nobili natali era riuscito a farsi apprezzare per i suoi consigli e per le sue mediazioni e a quanto pare ad entrare anche nei favori di Filippo IV con Cavarozzi arriva almeno in Castiglia un naturalismo meno severo e più aggraziato sia nella scelta dei soggetti che nelle forme oggi avere accettato che il maestro della natura morta Quavella e Cavarozzi sono la stessa persona ci permette poi di rivedere anche alcune opere esistenti o esistite in Spagna che in passato sono state attribuite al Caravaggio la prima di queste è il San Giovanni Battista della Cattedrale di Toledo su questo bellissimo esempio di pittura caravaggesca certamente uno dei più importanti rimasti in loco sono proprio quei famosi tralci di vite quelle foglie accartocciate che appaiono sullo sfondo del quadro a trovare strette analogie nelle canestre dipinte dal pittore viterbese prima del suo trasferimento in Spagna che va ribadito erano poi il risultato di una sua accurata osservazione delle frutte dipinte dal Caravaggio nella scena del Maus Mattei prima che il quadro finisse nelle mani rapaci del Cardinal Scipione Borghese il primo a dedurre che il San Giovannino Toledano doveva essere un'opera del Cavarozzi era stato Roberto Longhi ma anche altri studiosi avevano giustamente osservato come la mollezza delle forme e dei languori della figura del Santo fossero del tutto estranei al Maestro Lombardo gli stessi caratteri ripetiamo tipici del Cavarozzi e più volte da lui espressi nelle tante sacre famiglie sparse in ambedue le nazioni si ritrova in un altro quadro da molti anni attribuito a Caravaggio il sacrificio di Isacco della collezione Piaseca Johnson in questo quadro credo che gli studiosi del settore siano tutti d'accordo almeno su un fatto che colui che l'ha dipinto è anche responsabile del San Giovannino di Toledo anche qui osserviamo un'eccessiva cura nel dettaglio e un interesse per preziosità da farci inammentare le parole spese da Baglioni sempre su Cavarozzi diedesi a ritrarre confinimenti di grande amore accompagnati di per sé la tela dovrebbe avere una provenienza spagnola ed è sicuro in ogni caso che di essa esistono oggi almeno due versioni originali e numerose copie come si sa Cavarozzi ripeteva i suoi soggetti di maggior successo e tutto fa pensare che il primo esempio di questo quadro egli lo abbia dipinto ancora in Italia un dato pare certo comunque la composizione era ben conosciuta a Roma e probabilmente anche a Napoli ad essa si è infatti ispirato molte volte Giuseppe Vermiglio un artista piemontese solito accogliere le idee creative di altri colleghi del suo tempo Mancini ci ricorda poi come Cavarozzi anche prima della sua partenza per la Spagna vi avesse inviato diversi quadri una coppia ancora esistente nella cattedrale di Castellammare di Stabia vicino a Napoli potrebbe forse indicare che la prima versione originale potrebbe essere rimasta per un certo tempo proprio in quella città e Ainaudio de la Sarte ha suggerito che a importarla in patria sia stato l'allora vicere Pedro Giron duca di Osuna e grande mecenate di Ribera dei pittori italiani Cavarozzi è certamente colui che lascerà in Spagna l'impronta caravaggesca più tangibile tanto da influenzare diversi artisti dopo di lui come Pedro Rente Bartolome Gonzales Geronimo Jacinto de Spinosa le sue madonne con bambino toccheranno perfino Zurbarana e Murillo altri invece come i valenziani di Balta ne rimarranno completamente immuni infine con l'arrivo del genio di Velázquez il naturalismo in Spagna assume connotati totalmente indipendenti e qualunque ne sia stata la matrice forse anche parzialmente italiana l'originalità della pittura del sevigliano si stacca poterezzamente da qualsiasi precedente artistico grazie 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 grazie